Buonasera a tutti, qui abbiamo presentato la tua candidatura alle regionali, Michele, ha portato bene, speriamo porti bene anche per questo congresso. Funziona? Vabbè, se no prendo il microfono. Anche se è di la verità, guardarci così sembriamo il circolo degli alcolisti anonimi, in circolo. Io sono Antonio, sono iscritto al Partito Democratico dal 2008 e in questi 14 lunghissimi anni, come avrebbe detto il replicante nel monologo del film Blade Runner, ne ho viste cose che voi umani nemmeno potreste immaginarvi. Ho rubato il microfono a Loredana che ha fatto la brava presentatrice stasera. Ho visto per esempio in questi anni gente assolutamente incapace che ha azzeccato la corrente giusta e ha conquistato un posto al governo. Ho visto amici di infanzia che hanno cominciato a litigare e sono arrivate alle mani per conquistare invece un posto di sotto governo. Ho visto politici che adulavano il capo corrente di turno e pochi mesi dopo lo sommergevano pubblicamente di improperi quando magari era caduto in disgrazia. Ho visto lunghissime chat, lunghissimi incontri, lunghissime trattative in cui chi parlava sembrava interessarsi della politica e invece si interessavano di politici, cioè di loro stessi per conquistare un piccolo pezzo di potere. Ho visto persone del nostro partito imparare a parlare benissimo nei talk show e non riuscire a parlare più con un operaio, con un precario o con un disoccupato. Ho visto persone del nostro partito utilizzare il partito democratico come autobus per raggiungere una meta, scendere e attaccare il partito democratico, usare il partito democratico come casacca solo per alcune stagioni, quando conveniva. È vero, abbiamo visto tutto questo in questi lunghi 14 anni, però tutti noi abbiamo visto anche centinaia e centinaia di volontari che hanno organizzato riunioni, che hanno affisso i manifesti, che hanno distribuito i volantini nei gazebo, volontari che si sono presi gli insulti, gli improperi per strada, nei mercati. Li ho visti litigare anche con amici e parenti, anche durante i pranzi di Natale, come succederà tra qualche giorno. Li ho visti vergognarsi di alcune candidature che sono state calate.